Ciao a tutti! Oggi sono qua per prepararmi assieme a voi, ho selezionato un po' delle cose che mi stanno piacendo di più nell'ultimo periodo e poi ho fatto un paio di acquisti, diciamo, pazzerelli, quindi li testeremo assieme. Inoltre, ho appena finito di vedere la serie tv che hanno tratto dal fumetto Heartstopper su Netflix, quindi vorrei un po' parlarne con voi. Prima di iniziare, se ancora non siete iscritti al canale, potete farlo, è completamente gratuito, trovate il tasto qua sotto, mentre in descrizione trovate vari modi attraverso cui potermi sostenere, ci sono i link e i codici sconto da affiliata, ma anche la pagina Ko-fi attraverso cui potete offrirmi una simbolica tazza di tea o di caffè freddo, visto il caldo che sta facendo ultimamente. Comunque io vi ringrazio davvero di cuore. Come al solito io parto dagli occhi, ho messo il primer di Urban Decay, il primer potion, e ho intenzione di fare una sorta di eyeliner colorato con degli eyeliner, delle matite automatiche che ho comprato, che sono pastellose, non so quanto si vedranno sui miei occhi, ma le proveremo insieme, le ho acquistate su Amazon, e niente, mi sembravano carine per questo periodo primaverile. Erano in questa confezione qua, e all'interno c'erano queste matite automatiche, rosso, rosa, giallo, lilla, bianco, e c'era anche azzurro, non so dove sia andato a finire, forse l'ho già messo via. Comunque, come vi dicevo, sono delle matite automatiche, ho intenzione di usare quella fucsia e lilla. Per chi non conoscesse Heartstopper, ho iniziato a parlare proprio nel momento più critico. Comunque, è una serie che vede per protagonisti dei ragazzi e delle ragazze al liceo. In particolare, diciamo che il protagonista è un ragazzo gay, che quando ha fatto Coming Out è stato preso molto di mira nella sua scuola. Lui si trova in una sorta di collegio, o comunque scuola maschile. E un giorno viene messo di posto vicino a un ragazzo che non conosceva e inizia a stringere amicizie, appunto, con questo ragazzo che è molto popolare, che pensava di essere attratto esclusivamente dalle ragazze, ma una volta che si avvicina a Charlie, inizia un po' a domandarsi se è così o meno, perché si ritrova a essere attratto dal suo amico. È una storia che parla di prime volte, essenzialmente, di scoperte, di anche esplorazione della propria intimità. È una serie poi molto inclusiva e tratta il tema della scoperta, secondo me, in maniera molto sensibile. Mi sarebbe piaciuto tantissimo avere una serie del genere da adolescente, perché la rappresentazione, diciamo, non etero ai miei tempi era rappresentata pochissimo, esclusivamente come il ragazzo gay mi viene da pensare a serie tipo Dawson's Creek, ed era una rappresentazione, secondo me, molto stereotipata. Quindi diciamo che sono molto contenta che invece i ragazzi d'oggi possano rivedersi in serie di questo tipo, che ci sia molta più rappresentazione. E non voglio avere la pretesa di dire una buona rappresentazione, però... Tra l'altro io avevo letto i fumetti verso dicembre, perché con il calendario dell'avvento della Oscar Vault avevano regalato in PDF i quattro fumetti che sono usciti al momento, e io me li sono divorati, mi sono piaciuti veramente un sacco. Sia il fumetto che la serie sono estremamente dolcini, a volte forse anche un po' too much per quanto mi riguarda, però veramente molto molto carine. La serie è fatta molto bene, quindi io mi sento di consigliarvela al di là del fumetto. Poi se volete recuperare anche il fumetto, visto che mi è stato chiesto su Instagram se vale la pena o meno recuperarlo, io vi consiglierei, se avete un abbonamento Netflix, di provare prima la serie, se vi piace di recuperare poi anche il fumetto. È una storia che oltre alla scoperta e alla sessualità esplora un po' anche la salute mentale, quindi è un altro aspetto che avevo apprezzato veramente tanto nel fumetto. Per adesso ho fatto una codina fuori e dentro, inizialmente avevo un'idea diversa sul che cosa fare, però vabbè, e adesso con questo lì la provo a fare una riga qua. Vediamo quanto si vede, se si vede... Diciamo che il lilla su di me si vede un po' meno, ed era il colore che volevo di più, che mi aveva convinta all'acquisto, però va bene. Scusate il close-up tremendo, però per farvi più o meno capire che cosa ho cercato di fare, così cerco di vedere anche se effettivamente si vede in fotocamera il lilla. Comunque dal vivo si vede però molto molto soft. Mi sa che andrà a mettere un po' al centro, visto che c'è molto spazio vuoto qua, i miei amatissimi glitter di Nabla, in particolare questi che sono freddi, hanno dei riflessi un po' sul viola, e quindi secondo me ci potrebbero star bene. Tra l'altro, secondo me Heartstopper è anche il fumetto slash serie perfetto se vi piace leggere Manga Boys Love, perché a me ha ricordato un po' quel mondo lì, soprattutto le storie un po' più innocenti e dolcine, ed è stato molto bello vedere qualcosa del genere, però in un contesto diciamo europeo, perché se non sbaglio è ambientato in Inghilterra. Mi piace un sacco. Adesso vado a piegare le ciglia con l'altra cosa che ho acquistato. Spero che non sia un fail, in realtà l'ho già provato una volta, però avevo veramente molta molta paura. Che cos'è? Partiamo dalle basi. È un piegaciglia che si scalda, quindi dovrebbe mantenere di più la piega insomma delle ciglia. Ce ne sono diversi su Amazon, questo qua è costato circa 9 euro, va a pile, a batterie, si accende e la parte rossa pian piano diventa trasparente, e una volta che ha cambiato completamente colore vuol dire che si è riscaldato diciamo al suo massimo, che comunque non è bollente perché ho toccato col dito per provare perché non mi fido a mettere una roba del genere vicino agli occhi. E niente, praticamente poi si tira giù, o meglio su, giusto, su in questo modo, e si piegano le ciglia però appunto con il calore. Dopodiché andrò a mettere il primer ciglia di Lancome, sapete è il mio preferito di sempre, tra l'altro aiuta anche nel tempo a rinforzare un po' le ciglia. E poi andrò a mettere il Monsieur Big, nelle istruzioni dice poi di tenere per 15 secondi. Piegate? Sono piegate, soprattutto da lì probabilmente, no forse un po' si vede, io comunque ho delle ciglia abbastanza lunghe però sono dritte, quindi comunque io le vado sempre a piegare. Non mi sembra male come effetto, vediamo di qua. Bene, vedremo poi se dureranno effettivamente nel tempo, anche mettendoci mascara magari a volte le ciglia, anche se piegate, si appesantiscono e scendono. Vediamo un po' come sarà l'effetto finale. Per la base vado ad utilizzare questa BB Cream di Herborian, che sto amando, mi piace veramente molto. Ha un effetto finale sheer, quindi se avete la pelle mista grassa, forse non è il top se non vi piace come effetto. Però a me piace molto perché non copre tantissimo, ma io non ho bisogno, o meglio, io non cerco un prodotto che mi vada a coprire completamente il viso, anche se ho delle imperfezioni. Tra l'altro l'ho della mia spugnetta nuova, che è in tonza, super pulita, e durerà appunto questi pochi secondi. Dicevo che non cerco un prodotto che mi vada a coprire tutto, ma che vada a uniformare. E mi piace l'effetto luminoso sulla pelle, quindi sto veramente amandocelo da uno o due mesi ormai. E mi piace molto come effetto. Trovo che sia anche molto naturale. Ultimamente vado molto per questi look un po' più naturali e luminosi. Tant'è che non vado a usare per niente il correttore. Cioè uso questo prodotto qua e via, basta. Anche se appunto ho un po' di imperfezioni, un po' si vedono, un po' no, ma cioè, chi se ne frega. Oltre ad essere una serie sull'amore, si parla anche di amicizia e non so, veramente molto carino. Apprezzabile anche se siete appunto un po' più grandi come me, però in particolare per gli adolescenti, secondo me, è veramente super. Tra l'altro, quando avevano messo le prime immagini, spezzoni, tipo del trailer, avevo un po' di perplessità riguardo a uno dei personaggi, uno dei protagonisti. Perché il giocatore da football, me lo immagino con una certa corporatura, non so, me l'ero immaginato in un certo modo. C'è da dire che i disegni del fumetto sono molto, molto scarni, sono proprio super semplici, quasi stilizzati, quindi è molto facile, secondo me, dire, ah sì, questo personaggio assomiglia veramente a quello del fumetto, perché è talmente disegnato in maniera semplice, che tante persone diverse possono essere ricondotte a quella figura lì. Però al di là proprio dell'aspetto fisico, proprio come corporatura, non so, me lo immaginavo forse diverso, e invece l'attore è bravissimo, è veramente perfetto in quel ruolo, quindi io sono rimasta molto colpita in generale da tutti gli attori che hanno scelto e sono contenta che abbiano scelto degli attori queer, quindi wow. Per dare un po' di colore al viso vado a utilizzare questi stick di Kes, che mi sono stati mandati dal brand e che sto genuinamente amando. Hanno da una parte il blush, dall'altra l'illuminante. io vado a mettere un po' di tan, che è questo marroncino, è in realtà un po' caldo, quindi va a fare più da bronzer che da contour, e poi l'altro blush che ho è coral, ed è un colore tipo pescato, veramente molto molto bello. A volte vado ad applicarli direttamente così sul viso, ma ho scoperto un metodo che mi piace forse di più, e che è ottimo se avete magari una base, tra virgolette, più pesante rispetto alla mia, perché comunque la BB cream, se si sposta un po' di prodotto non è che si veda così tanto, mentre se mettete un vero e proprio fondotinta, magari mettendoci sopra dei prodotti in crema e tirando, c'è il rischio di fare macchia o altro. Quello che faccio io è, con un pennello, questo è di Kiko, vado a prendere un po' di prodotto, semplicemente così, e poi invece che tirare, tampono. E lui rilascia comunque colore e in maniera molto sfumata. E ultimamente sto facendo soltanto questa parte qua, cercando di liftare il mio viso. Tra l'altro, cioè si sta avvicinando il mio compleanno. Mi fa un po' paura. Più passo il tempo, più mi fa paura. No, vabbè, sto chiaramente scherzando. Il blush poi lo vado a mettere anche sul naso ed è un'altra di quelle cose che ho iniziato a fare recentemente che mi piace, perché è un po' come se avessi preso il sole, senza effettivamente aver preso il sole. L'illuminante invece, sempre da uno degli stick, sun prendo in particolare, lo vado ad applicare con le dita e ha un effetto bagnato bellissimo. Infatti, secondo me, quest'estate ci farò letteralmente il bagno in questo illuminante, perché mi piace molto. Lo metto a mettere un po' anche sul naso e solo qua i punti un po' più alti del viso. Una volta invece arrivavo fino a qua più o meno con l'illuminante e invece sempre per il discorso del cercare di alzare un po', vado a mettere proprio solo quassù. Tanto comunque l'effetto della BB cream è molto luminoso, quindi... Non so se si riesce a vedere quanto illumina. Mi piace veramente moltissimo. Labbra. Vado a mettere un altro dei miei preferiti del periodo, ovvero questo gloss di Sephora che ha un effetto volumizzante sulle labbra. Pizzica un pochino, ma per me è veramente super super portabile. E il colore che ho io è lo 02 che è leggermente pescato, ma una volta sulle labbra in realtà non si nota così tanto. Quello che vado a fare per accentuare un po' di più l'effetto diciamo di labbra rimpolpate e andare a mettere poco poco di matita di un colore più o meno simile al mio, soltanto un po' sopra al centro e qua sotto. E poi lo sfumo un po' per non creare troppo, diciamo, stacco. E lo vado a mettere ora, così entro la fine del video potrete vedere il prima e il dopo. Questo è il prima. Ci vogliono circa 5 minuti per l'effetto diciamo finale vero e proprio. Intanto che vado a mettere il mascara volevo chiedervi con quale serie, diciamo, queer siete cresciuti, se ce ne erano insomma, se siete rimasti soddisfatti dall'inclusività, alla rappresentazione o meno. perché io come vi dicevo sono rimasta... Una delle primissime cose che ho pensato guardando questa serie, Heartstopper, è stata proprio, cavolo, avrei voluto guardarlo da adolescente perché quando ero adolescente io non facevano serie di questo tipo. Per ora sono molto contenta della piega delle mie ciglia. Cioè mi sembra che stia tenendo botta bene, anche se come al solito ho esagerato un po' col mascara. Comunque, ultima cosa che vado ad applicare questo gel per sopracciglia di Espresso, Hey Bro. Oltre alla serie queer fatemi sapere ovviamente se avete guardato Heartstopper, se vi è piaciuto o meno, se avete letto anche i fumetti, come vi è parso insomma il confronto fra le due opere. Io vi ripeto, sono veramente molto molto contenta e non pensavo, sono stata tutto il tempo con gli occhi a cuoricino a dire Che cute! Mi è piaciuto veramente, veramente tanto. Tra l'altro mi sono detto dai mi guardo giusto un episodio, tra l'altro sono anche brevi e mi guardo dai un episodio oggi, un episodio domani, come no, guardata praticamente in un giorno. Non ho resistito. Nonostante io comunque conoscessi già la storia, cioè questo è il bello. Adoro. Poi adesso che ho finito di vedere la serie mi appaiono continuamente TikTok degli attori. Adoro, adoro. Soprattutto vedo un sacco di TikTok del personaggio di Elle, cioè dell'attrice che fa il personaggio di Elle. Bellissima, una vera queen. Ultimamente devo dire che mi trucco molto spesso in questo modo, ovvero base molto luminosa, comunque naturale e giusto una cosa leggera, leggera sugli occhi, magari colorata, o l'eyeliner o un ombretto, ma proprio poco poco, cioè proprio semplice, ecco. E non so, mi piace molto. Ah, questo poi l'effetto delle labbra. le adoro, non tanto perché sembrano più grandi, ma perché sembrano proprio rimpolpate, sembrano più belle. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate del look finito, spero tanto che vi piaccia, ma soprattutto spero di avervi tenuto un po' di compagnia. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!